Porta una firma tutta lucana il successo della Juventus sul Napoli di Simone Zazza da Metaponto, il sinistro che regala ai bianconeri il sorpasso e la vetta della classifica, Ilaria Dionisi. Si porta spasso Coulibaly, alza la testa e non ci pensa due volte. Spara un sinistro velenoso e complice una deviazione del malcapitato al Biol, risolve il big match tra Juventus-Napoli. E' Simone Zazza, classe 91 da Metaponto, la vera scossa elettrica dell'atteso scontro al vertice tra bianconeri e partenopei. Sua la firma della notte magica che regala alla Juve il sorpasso e la vetta della classifica. Chi si aspettava il guizzo di Guain di Bala o Morata è rimasto deluso, la copertina se l'è presa il ragazzone Lucano, considerato il quarto attaccante nelle gerarchie di Allegri. Un mix di forza fisica, tenace e talento, anche se a volte a fasi alterne. In pochi mesi però Zazza ha conquistato anche la signora più snob e ieri, da buon amante, gli ha regalato la rosa due minuti dalla fine di un importante appuntamento. Con ieri sera i suoi centri in bianconero sono sette in sole cinque presenze da titolare su quindici complessive. Quattro in campionato, uno in Champions e due in Coppa. Mica male per uno considerato l'ultima ruota dell'attacco.